Quando parliamo delle mie prigioni occorre ricordare anzitutto che è probabilmente il libro dell'Ottocento più letto e più diffuso non solo in Europa, il libro italiano dell'Ottocento, circa 600 edizioni nei primi 120 anni, di cui un numero superiore alle 150 edizioni francesi e rapide anche furono le traduzioni, addirittura il russo nel 1835. Queste traduzioni spesso accompagnavano esuli per motivi politici e diventarono un po' le livre des chevets di tutta una generazione in Italia risorgimentale, ma anche di altre nazioni che aspiravano all'indipendenza nazionale. Occorre subito dire che Pellico era perfettamente cosciente che nel momento in cui scriveva intorno al 1831, da poco uscito dal carcere, non tutto poteva essere detto, sia perché molti suoi compagni erano ancora nelle galerie dello Spielberg o di Lubiana, sia perché il luogo dove scriveva, gli stati sabaudi avevano più momenti di censura, una ecclesiastica, una anche di tipo statale e a questa ovviamente si dovette sottoporre anche il manoscritto delle mie prigioni e quindi è un libro che nasce anche sotto il segno della reticenza, sotto il segno dell'abrasione e ovviamente è un libro anche che invita il lettore a riempire un po' quei vuoti, quegli spazi che restano da queste cancellazioni. E quindi in un certo senso si è sempre detto che ci sono due libri, quello di chi li ha scritto, quindi quello del Pellico e quello del lettore. Uno in fondo più teso a una visione personale di una sventura che comunque può essere provvida come quella delle prigioni per un miglioramento interiore, un riavvicinamento alla religione e un libro invece del lettore che conoscendo le vicende di Pellico punta invece di più sull'aspetto della denuncia. Certamente le due cose non sono distinte, vanno unite perché è appunto il progressivo perfezionamento dei carcerati, dei condannati e dunque il calcare la mano sull'aspetto della pena, le due cose vanno unite proprio perché in questo modo si arriva ad una considerazione di un divario molto forte tra coloro che subiscono la pena, che diventano pian piano quasi le vittime sacrificali e l'eccesso di questa pena stessa che viene avvertita soprattutto dal lettore come una ingiustizia e dunque una prevaricazione.